Musica Rigettato dal Tar della Toscana il ricorso dei familiari contro l'ordinanza del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli di chiudere la residenza di Campolucci. Il tribunale amministrativo ha quindi dato ragione al comune di Arezzo ma non si è ovviamente espresso nel merito della complicata vicenda. Quella che secondo le famiglie dei 13 anziani è un'autogestione del tutto regolare con affitto della villa e assunzione dei badanti ripartita tra le famiglie per la ASL è invece una RSA senza le dovute autorizzazioni perché gli anziani e alcuni di loro sono non autosufficienti. Eppure bene come qui molti dei vecchietti non sono mai stati e tra coloro che non ci sono più c'era anche un signore che dopo essere stato riconosciuto non autosufficiente ha fatto in tempo a passare a miglior vita prima che il servizio pubblico gli riservasse un posto. Insomma secondo la sentenza del TAR queste famiglie dovranno riorganizzarsi. Ci dicano dove dobbiamo sistemare i nostri familiari ci racconta un signore io non posso permettermi di pagare 90 euro al giorno le regole è giusto che esistano ci mettano però nelle condizioni di poterle rispettare.